Lazio tiene in piedi la qualificazione, perde 2-1 qui allo stadio Dodragao al termine di una gara che lascia qualche rimpianto ai Biancocelesti che hanno giocato secondo me una gara molto importante dal punto di vista tattico, cercando anche di mettere in campo quelle che sono i dettami impartiti da Sarri ci è riuscito a parzialmente anche per la forza dell'avversario che comunque si è dimostrato un avversario di caratura europea è partita bene alla Lazio, è passata in vantaggio con un bel gol sugli sviluppi di calcio d'angolo di Zaccagni un colpo di tacco che ci ricorda un po' Mancini anche se con caratteristiche e differenze, Mancini lo segnò a Parma stavolta Zaccagni lo ha fatto allo stadio Dodragao, uno scambio corto con Pedro e Luis Alberto e poi il cross basso e Zaccagni con il tacco ha beffato l'estremo difensore portoghese ha reagito il porto e lo ha fatto però in maniera secondo me anche abbastanza di inerzia, di nervi, di fisico mettendo in piedi quelle che sono le sue caratteristiche ma senza grande precisione poi però ecco la giocata di Tony Martinez, una mezza dormita da parte di Luis Felipe e il pareggio del porto ha riequilibrato il match e rastenerato la squadra di casa che poi ad inizio ripresa si è portata in vantaggio di nuovo grazie ad una leggerezza di Luis Felipe che ha lasciato lo stesso spazio a Tony Martinez che ha siglato il raddoppio, ecco due gol per questo attaccante di riserva del porto che quindi hanno condizionato la gara e fissato il risultato finale la Lazio però poi ha resistito a quelli che erano i tentativi di chiudere la qualificazione da parte del porto è andata vicina al pareggio in tre circostanze una con Milinkovic, una con Felipe Randers, una con Zaccagni ecco proprio Zaccagni migliore in campo in assoluto della Lazio oltre al gol tantissime giocate Gioao Mario il terzino destro del porto lo ha visto andare via tutte le volte che l'ex Verona ha avuto la palla tra i piedi ecco rimane un po' il rimpianto di non aver avuto Ciro Immobile in questa gara che avrebbe potuto veramente fare male a una coppia difensiva quella di Impempa e Pepe che non sono sembrati trascendentali ecco Lazio paga alcuni errori individuali la mancanza di alternative dalla panchina per cambiare il passo della gara c'è stato l'esordio del Gabralla a sette minuti alla fine esordio diciamo incommentabile perché ha avuto pochissimo tempo e spazio però ecco almeno tra otto giorni ci sarà spazio tra sette giorni ci sarà spazio per tenere in piedi la qualificazione ce l'ha detto Sergio con SESAO quando in conferenza stampa mi ha risposto alla mia domanda speriamo ecco di vedere una Lazio con lo stesso piglio magari con qualche uomo in più acerbi e immobile su tutti che possa avere più qualità e soprattutto la spitta dell'Olimpico per una serata importante ecco servirà anche il pubblico tanti laziali quest'oggi ad Oporto circa mille si sono fatti sentire si dovranno far sentire però quelli dell'Olimpico che dovranno creare un po' lo stesso catino che ha creato il pubblico qui del Porto per questo è tutto un saluto e forza Lazio